E' stata presentata a Palazzo Lascaris Il Solo e per Amico, la campagna nazionale di prevenzione contro il melanoma promossa da IMI, Intergruppo Melanoma Italiano, con il Ministero dell'Istruzione e il patrocinio del Ministero della Salute, dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e della Regione Piemonte. Si tratta di un progetto educativo di prevenzione primaria che ha già coinvolto 10 regioni e circa 30.000 studenti e ora raggiunge anche le scuole elementari del Piemonte per spiegare ai bambini in modo semplice come esporsi al sole senza rischi. Il Consiglio regionale del Piemonte sostiene sempre iniziative finalizzate a promuovere nuovi stili di vita, buone pratiche, nel caso specifico la consapevolezza, in modo particolare per i bambini, della conoscenza del nostro corpo. Ci sono delle patologie, quindi forme tumorali, tumori della pelle, dove è molto molto importante sapere quando un bambino si espone tanto al sole a che cosa va incontro, anche perché la patologia si scopre quando siamo in ritardo. Con questa iniziativa si cerca di far conoscere non solo i bambini ma anche alle famiglie tramite il veicolo della scuola la consapevolezza del nostro corpo.